Algo dolce, algo raro, da un regalo comune, de los que perdiste o nunca abriste, che olvidaste in un tren o no aceptaste. E voilà, eccoci arrivati a Frometera. Ciao a tutti, non mettetevi a sorridere, questo video messaggio è una cosa super seria, mi raccomando. Seguiteci fino alla fine e scoprirete il tutto. Ciao! Ciao! Cosa vi ricordo l'anno 2016? Il prossimo stadio al Festival di Stamento. Il prossimo stadio al Festival di Stamento. Secondo me, l'Europa è in Freccia. Avete tutti preso un abbaglio. Correva l'anno 2016, come nel film di Paolo Genovese, quando due perfetti sconosciuti, io e Moreno, si incontrarono, io e lui. E se non l'avete ancora capito, stiamo parlando proprio di noi due. Scommettiamo che vi state chiedendo perché questo video messaggio? Molto semplice, seguiteci a Playa del Pirata e lo scoprirete. Quanto è bello andare in giro, con le ali sotto i piedi, sei una vespa special che ti toglie i problemi, ma quanto è bello andare in giro. Eccoci qua, Formentera, Playa del Pirata. Per dirvi cosa? Per dirvi che siete tutti invitati per domenica 29 settembre. Perché cosa facciamo, Barbara, quel giorno lì? Per festeggiare con noi il nostro matrimonio. A questo punto siete curiosi di sapere dove? Mo' ve lo facciamo vedere. Vorrei almeno che ci fossi tu. Allora noi ci sposeremo qui. Qui, proprio qui. Dopo la cerimonia ci trasferiremo tutti qui. Al re me e santo Stefano per stuzzicare qualcosa tutti e sempre. Un sorriso stanco o un cenno di sorpresa. Sarà molto difficile alzare gli occhi in su. Cosa manca ancora? Nelle due buste ci sono i nomi di chi ci farà da testimone. Chiaramente si accettano, eh. My sister palestra. Gianni, io lo so, Gianni. Dalla Isla Bonita a questo punto è tutto. Vi aspettiamo tutti il 29 settembre. Ciao! 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 Grazie a tutti.